Passa da una cucina semplice a ricette incredibilmente sofisticate con il robot da cucina KitchenAid Artisan da 4,8 litri originale. Estremamente versatile e con un design inconfondibile, diventerà il tuo infaticabile compagno in cucina sempre al tuo fianco per preparare in qualsiasi momento piatti favolosi. Con il gancio impastatore, la fatica di fare il pane diventerà un lontano ricordo e potrai preparare pane e pizza tutti i giorni. La frusta piatta è invece perfetta per pastelle delicate o più dense. Prepara in un attimo miscele soffici e ben montate con la frusta a filo. Grazie all'ampia serie di accessori del robot da cucina, anche le operazioni più complesse non saranno più un problema, dalla macinatura della carne alla preparazione di deliziose salsicce fatte in casa. Rendi onore alla freschezza della frutta degli ortaggi con il passaverdure e prepara succhi e purè perfetti da usare mentre cucini, separando buccia, gambi e semi. Fai della velocità il tuo punto di forza, scegliendo tra la vasta gamma di precise grattugie che garantiscono risultati impeccabili e ti fanno risparmiare tempo. Puoi trittare, affettare, frantumare, grattugiare, sminuzzare senza sporcare. Con gli accessori opzionali, come la serie di ciotole o la gelatiera, puoi davvero liberare tutto il tuo estro creativo e preparare piatti speciali per le feste, semplicemente sostituendo un pezzo. Il kit macina cereali e l'accessorio per la pasta trasformeranno la tua cucina nel regno di uno chef con tutto ciò che ti occorre a portata di mano per preparare piatti da ristorante a casa tua. Prepara la pasta fresca dalle lasagne alla pasta lunga con incredibile precisione. L'unico ingrediente da aggiungere è la tua fantasia. I kit per la pasta sono strumenti estremamente precisi e sofisticati, eppure così facili da usare. Non ci saranno limiti al numero di incredibili piatti che potrai preparare. Prestazioni elevate, risultati eccezionali, qualità leggendaria KitchenAid.